Il maxi sequestro di droga è stato operato dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Pestum, guidata dal comandante Natale Carotenuto. Oltre 3.000 piante di canapa indiana che erano state coltivate in un terreno in località Cerro. Scattate anche due denunce per chi aveva affittato e messo sulla piantagione e anche per il proprietario del terreno. La droga, se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato, si stima, circa un milione di euro. A tutti gli agenti e gli ufficiali del Comando Polizia Municipale di Capaccio Pestum hanno fatto un lavoro eccezionale, se non altrimenti stasera non saranno qua. Un grazie di cuore anche al sindaco e all'amministrazione comunale che ci supporta, riconoscente perché il sindaco e l'amministrazione tiene tanto al Comando di Polizia Municipale di Capaccio e ai suoi agenti, per il lavoro che svolgono quotidiano a me. Grazie. 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 Grazie.